Dai, via Alessia, via te. Faccio compagnia. Ludovica. Natalia, 19 anni. Ma sono molto fotogenico. Di che anno siete? 99, 99. Che fate della vita? Studenti. Faccio tutto il calore. Con il filettolo. Con il filettolo. Che succede il 4 marzo? Il 4 marzo. Non lo so. Voi andrete a votare? Sì. La prima volta? Sì. Vi fa un po' emozione? Sinceramente no, perché sono sincero, neanche sapevo la data. Cioè non senti che magari, non so... Posso cambiare qualcosa con il mio voto? No. Ti dico il leader, chi ti viene in mente? A me viene in mente Putin. Ma Totti potrebbe essere il leader. Che ne sa, in Germania, la Merkel. È il mio primo datore di lavoro. Come si chiama? Ahmed. E invece un italiano? Un italiano. Cioè mi faccio più consigliare da mia madre che... Cioè capisci di più? Sì. Berlusconi. Berlusconi. Ma e vi piace? Ma sì. A me no. Ma io lo dico Enzo. Salvini. O Di Maio? Di Maio purtroppo non lo conosco. Ad altro punto di vista sono ateo. Però voterai. Ma io voto quello che dice mia madre. Ma alla fine c'è qualcuno che vi ispira fiducia? Fiducia a me me la fiducia nessuno. Fiducia a me. Per me si domani ancora di me. Sì. 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 Sì.